Torniamo adesso in un stile compositivo un po' più moderno. Il prossimo brano è di Fabrizio Delosier, un autore vivente. Questo brano risale al 1903 ed è stato dedicato sempre al servizio di prima, quindi con delle esercizioni. Il brano si intitola Franza Estatica e il compositore che ha mandato il pezzo ha detto che l'ha scritto rimandandosi la festa, una festa romana dopo il servizio dei toni. Quindi ci sono un po' di sonorità violente che tra l'altro lui vuole scrivere nella partitura e ci sono anche dei momenti però di calma assoluta. ... ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti